La tre giorni di fare i conti con l'ambiente sbarca a Ravenna, inizia la manifestazione con le sue tante iniziative, molti convegni, le scuole di formazione superiore, i tanti approfondimenti sui temi dell'innovazione dell'ambiente, della cultura dell'ambiente. Invitiamo i cittadini a partecipare, c'è di che saziare la propria curiosità e la propria sensibilità sui temi che riguardano l'ambiente, sui temi che riguardano i rifiuti, l'acqua e quindi tutte le grandi tematiche che riguardano la qualità della vita dei nostri cittadini. Tre giorni di lavoro, tre giorni di riflessione, tre giorni di approfondimento che consentono di creare quella cultura diffusa su questi temi perché o siamo in grado di costruire su questi temi una cultura diffusa delle scelte amministrative e la maturità, anche il valore aggiunto di comunità nei comportamenti che ognuno può mettere in campo per rispondere alle sfide globali, a cominciare dai cambiamenti climatici per arrivare all'inquinamento.